Quando si inizia a frequentare un liceo o un'università, è normale sentirsi un po' smarriti riguardo al proprio orientamento e al percorso formativo da intraprendere. È importante ricordare che è normale sentirsi così e che molte risorse sono disponibili per aiutarti a trovare la tua strada. I licei e le università offrono servizi di orientamento che possono aiutarti a capire le tue passioni, i tuoi interessi e le tue abilità per scegliere il percorso di studi più adatto a te. Inoltre, i tutori e i counselor sono lì per guidarti e supportarti lungo il cammino. Non avere paura di chiedere aiuto e di esplorare diverse opzioni, perché è solo attraverso l'esplorazione che si può scoprire cosa ti appassiona veramente. Ricorda che è un viaggio personale e che è normale cambiare idea lungo il percorso. L'importante è seguire il proprio cuore e rimanere fiduciosi che tutto si sistemerà nel modo giusto. Che tu stia iniziando un nuovo capitolo al liceo o all'università, ricorda di goderti il viaggio e di lasciarti ispirare dal processo di apprendimento e crescita che ti attende.